Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il frontman dei Maneskin, Damiano David, ha annunciato il lancio imminente del suo progetto solista, mantenendo però un legame con la band. In un teaser pubblicato sui social, Damiano ha svelato dettagli sul suo nuovo percorso, definendosi come ladro, mentitore, amante e mutante alla ricerca della propria voce. Il cantante romano ha fissato il 27 settembre come data importante per il debutto del suo progetto solista, creando profili su Spotify e YouTube. La decisione di separarsi temporaneamente dai Maneskin è stata evidenziata dalla rimozione del nome della band dalla sua biografia su Instagram, mentre gli altri membri mantengono il riferimento al gruppo. Victoria, la bassista del gruppo, ha recentemente preso parte a uno spot pubblicitario da sola, anticipando una possibile separazione temporanea dei membri per dedicarsi a progetti personali. Damiano ha fatto la sua comparsa come presentatore ai VMA, esibendosi senza i suoi compagni di band. Il countdown per il lancio del progetto solista di Damiano David ha generato grande attesa tra i fan dei Maneskin, che seguono con interesse i passi del frontman in questa nuova avventura musicale. Resta da scoprire quale direzione prenderà il cantante e come si evolverà il suo percorso.